Maglev Maglev, ovvero un treno a lievitazione magnetica. Il Maglev Transrapid di Shanghai collega il centro della città al suo aeroporto internazionale. Nessun attrito con le rotaie e una velocità che può arrivare a 431 km orari, 7 minuti e 20 secondi per l'intera tratta percorsa. Inaugurata nel 2004, si tratta della prima linea commerciale di alta velocità a lievitazione magnetica. 50 yuan, il biglietto singolo standard, con possibilità di opzione VIP e di abbonamenti, per rispondere a qualsiasi esigenza di spostamento. Le eccellenze in mostra a Expo Shanghai facilmente raggiungibili grazie alla linea Maglev, straordinario esempio di efficienza, ottime prestazioni e tecnologie d'avanguardia. Per un mondo che viaggia ad altissima velocità.